E' uscito un libro della Madonna, proprio la categoria libri della Madonna, l'ha editato Chimenez e rientra un po' anche in una politica editoriale di Chimenez, quella di pubblicare libri della Madonna che vertono sulla storia delle lavorazioni di film importanti. E' uscito nella playlist libri della Madonna, non scherzo, libri di cinema. E adesso, dopo tra l'altro un altro bellissimo libro di Sam Watson, Il grande addio, che raccontava la lavorazione di Chinatown, adesso abbiamo questo A pistola lasciala, pigliami i cannoli di Mark Seale che racconta la genesi del padrino. Parliamo naturalmente del film di Francis Ford Coppola ma Seale ci racconta la scaturigine dell'idea, quindi il romanzo di Mario Puzzo. E' un libro che, a quanto mi è parso di capire, ha colpito molto l'immaginazione dei critici, dei cinefili perché racconta anche quanto il crimine organizzato, la mafia, abbia influito sulla lavorazione del film, un po' da prima anche creando problemi e una volta resosi conto che il romanzo di Puzzo più ancora del film di Coppola, che era, c'è stato anche critici illustri in Italia come Fofi che pure ha amato il film e Moravia che non lo ha amato, Moravia non capiva un cazzo di cinema. Insomma, pur essendo il grande intellettuale che è stato, e questo nessuno glielo toglie. Però lo stesso Fofi, che era una delle voci critiche che ha amato il film di Coppola, diceva che il libro di Puzzo era scritto in una sorta di tacito sequio al sistema mafioso. Ebbene, l'Italian American Civil Rights League, mi tocca leggere per la solita ragione che sto perdendo ormai la capacità di intendere di volere, di Gio Colombo, un attivista insomma che attraverso questa sua associazione garantiva in qualche modo tutelava l'immagine degli italoamericani nei media, ma Gio Colombo era anche il rappresentante di una famiglia mafiosa, insomma. È uno dei tanti personaggi influenti che dapprima ostacoleranno il film e poi in qualche modo lo prenderanno sotto la sua ala protettrice. È un argomento ineludibile parlando del, diciamo, un po' dell'indotto culturale che sta intorno al padrino, ma è anche la parte del libro meno appassionante. Io da amante del cinema, da amante di Francis Ford Coppola, devo dire che l'ho trovato assolutamente straordinario, invece le pagine legate strettamente alla lavorazione e anche gli esse, no? E se questo ruolo l'avesse fatto il tal dei tali cosa sarebbe successo? Come sarebbe stato? Perché il primo attore a interessarsi al libro di Puzzo e a voler interpretare Vito Corleone è Bart Lancaster e Robert Evans, lo spregiudicato e coraggioso dirigente della Paramount, acquisti i diritti del libro semplicemente per prenderli prima di Lancaster. Poi questo libro ci racconta, io ho già fatto il nome di Robert Evans, che tra l'altro era centrale anche nel libro dedicato a Chinatown, perché in quegli anni Evans risolleva le sorti della Paramount producendo film molto importanti, Il padrino, Chinatown e Love Story. Love Story e Il padrino sono poi i film che portano più soldi. Però dicevo, questo libro ci fa capire anche quanto il cinema sia veramente un lavoro collettivo, con tutto che Coppola è sicuramente un autore con una personalità fortissima, che arriva a girare Il padrino dopo tre film da regista, tutti sfortunati in termini di botteghino, ma con una reputazione solida coronata da un Oscar come sceneggiatore. E poi c'è il grande desiderio di indipendenza di Coppola, che lo porta a fondare l'American Zoetrop, quindi una sorta di organismo produttivo alternativo a Hollywood, dove alleva giovani talenti come George Lucas o John Milius. Ma tanto da quasi fare controvoglia a questo Il padrino, che di fatto gli viene affidato semplicemente perché è italo-americano e perché è giovane. Perché nelle intenzioni, in un primo tempo, del produttore designato, che ha un'importanza non minore di Coppola nella messa a punto di questa straordinaria macchina cinematografica, cioè Albert Raddy. L'idea è quella, insomma, di avere un regista giovane manovrabile. E Albert Raddy vorrebbe fare un film a basso costo, ambientato nella contemporaneità. E sono le insistenze di Coppola a riportare il film agli anni 40, cioè l'ambientazione pensata da Mario Puzzo. Ora, c'è anche un balletto di registi che precede Coppola. Nel libro qui vengono citati Otto Preminger, Arthur Penn, Elia Kazan. Da altre voci si dice che venne contattato, qui non lo dice, però, storie, insomma, venne contattato anche Sergio Leone per girarlo, che poi rifiutò per non occuparsi di gangster. Lui voleva fare, c'era una volta in America già da allora. Ma poi c'è anche il continuo, il balletto, diciamo così, degli attori. Allora ecco che i produttori per Vito Corleone vogliono Anthony Queen o Ernest Borgnine. Per Michael Corleone si fa il nome di Robert Redford o di Ryan O'Neill, con grande orrore di Coppola, perché cosa centrano questi americani wasp biondi con l'italiano Michael Corleone, italiano americano di seconda generazione, ma insomma comunque con ancora ben impresso anche da quella che è la descrizione di Pudo, ben impresso, i segni etnici dell'italianità. E un'altra cosa che colpisce di questo capolavoro che è stato il padrino è il cambio di paradigma, cioè il fatto che comunque un regista giovane, Coppola aveva 35-36 anni, riesce a imporre un cast di sconosciuti. Perché il padrino è, adesso non ce ne rendiamo conto, ma effettivamente il padrino è interpretato da sconosciuti. L'unico attore importante è Marlon Brando, che peraltro Coppola fa una fatica tremenda a imporlo, perché veniva da una lunga serie di flop, addirittura si dicesse portasse sfortuna. Quindi Brando è di fatto l'unico divo che entra nel cast, ma Al Pacino aveva all'attivo un solo film, Panico a Needle Park, che doveva ancora uscire peraltro. E anche lì c'è lo scontro violentissimo con Robert Evans, appunto che non voleva assolutamente Al Pacino, così come non voleva James Caan e Robert Duval, che già in qualche modo avevano una loro piccola fama per aver interpretato James Caan due film di Howard Hawks e Robert Duval, Il buio oltre la siepe, però non erano nomi di cartello, non erano attori famosi. Erano già nella factory di Coppola, perché con lui avevano già fatto il film precedente, Non torno a casa stasera, infatti sono due attori che negli anni 70 tornano nella filmografia di Francis Ford Coppola. Ma la stessa Diane Keaton non è famosa, e tra l'altro dà la misura anche di che grandissima attrice è da Ian Keaton per rivitalizzare un personaggio tutto sommato opaco, come quello di Kay Adams. E poi c'è Talia Shire, la sorella di Coppola, che viene vista un po' come un cedere al nepotismo, insomma. E poi ci sono attori in declino, grandissimi attori in declino, Richard Conte o Sterling Hayden. Insomma, per dire quindi che un film il cui budget cresce giorno dopo giorno, diventa sempre più ambizioso, veramente poggia il suo fascino di divismo su pochissimo, però lì è la grande intelligenza cinematografica di Coppola che trova i volti giusti. E c'è un capitolo di una bellezza incredibile in questo libro che è la trascrizione di una riunione fatta da Coppola con i suoi collaboratori, con Gordon Willis soprattutto, direttore della fotografia straordinario che anche qui si inventa una luce nera per il padrino, un film che rinuncia ai colori primari. Gordon Willis si inventa un bianco e nero a colori in qualche modo, lavora su una palette di colori smorfata e entra in attrito fortissimo con Coppola, perché Coppola ha un metodo di lavoro improntato all'improvvisazione, mentre il disegno delle luci di Willis è rigorosissimo, basta che un attore non colga un segno per sprofondare nelle tenebre. Pensate soltanto all'incipit, al grandissimo incipit con il primo piano di Buonasera che proprio si staglia in questo buio e dice io credo nell'America. Qui c'è questo lunghissimo capitolo dove viene passata al setaccio ogni pagina della sceneggiatura con Gordon Willis per capire i piani, i movimenti di macchina e con loro c'è Dean Tavularis, scenografo che poi diventerà uno dei fedelissimi del gruppo di lavoro di Coppola, faranno molti altri film insieme, e poi insomma Walter March, il sound designer all'occorrenza anche montatore del film, non solo di questo, anche di Apocalypse Now e di altri film, e Peter Zinner, il montatore responsabile dello straordinario finale, il montaggio alternato dove Al Pacino fa il battesimo di suo figlio Anthony che poi in realtà è Sofia Coppola, neonata, è nata durante le riprese del film, che è appunto montato in alternanza con il massacro dei nemici della famiglia. Un libro bellissimo, ci entra in scena Robert Towne, altro sceneggiatore al centro del libro che ho già citato, Il Grande Addio, perché Robert Towne ha scritto Chinatown, ma lo ha scritto tra l'altro perché Towne scriveva tutto con la collaborazione di questo Edward Taylor che poi non firmava mai, ma è dietro, questo Taylor è dietro anche alla scena che Towne ha scritto per il padrino su richiesta di Coppola, la scena in cui Brando e Al Pacino parlano, quella che viene definita la scena della successione, in cui Don Vito Corleone riconosce che Michael gli subentrerà nella gestione del potere, insomma, e ci racconta quindi Mark Silla anche come nasce questa scena, la scena bellissima della morte di James Caan, che viene crivillato di colpi, una scena che deve qualcosa al finale di Gangster Story di Arthur Penn per missione dello stesso Coppola, ma ancora la bellissima scena in cui Al Pacino uccide Sollozzo, Allettieri e il capo della polizia, cioè Sterling Gayden, con Coppola che voleva questa nebbia rossastra che si allarga dopo che lui ha sparato in testa ai due uomini e poi insomma lascia il locale, le scene di violenza sono coreografate, sono cesellate da Coppola, hanno anche la morte per esempio di Carlo, il cognato che viene strangolato in macchina e con un calcio sfonda al parabrezza dando proprio quasi tridimensionalità a questa sequenza. È un libro che è difficile sintetizzare chiaramente in pochi minuti, il titolo tra l'altro cita una battuta iconica detta da Peter Clemenza, cioè Richard Castellano, il nome dell'attore quando uccide Poli Gatto, un autista traditore della famiglia e a pistola lasciala, piglia Micannoli, a pistola lasciala era scritta nella sceneggiatura, piglia Micannoli, un'improvvisazione graditissima di Castellano che tant'è che rimarrà nel film. Molte scene entrano nel film su improvvisazione, quando Brando poco prima di morire spaventa il nipotino mettendosi la buccia d'arancia in bocca, anche quella scena non era prevista in sceneggiatura, è una cosa estemporanea di Brando. E il personaggio di Poli per esempio, per cui era stato provinato Robert De Niro, ma Robert De Niro viene provinato anche per Sonny. La sua performance quasi spaventa Coppola, lo rende ancora più psicopatico di quanto sia nell'interpretazione di James Caan. Forse De Niro aveva già in mente il Johnny Boy che di lì a poco interpreterà in Main Street dell'amico Scorsese e che poi è il film che spingerà Coppola a usare De Niro nel ruolo di un giovane Vito Corleone nel padrino parte seconda, che è un capolavoro assoluto, tanto quanto questo primo padrino. Quindi un libro indispensabile, veramente se c'è un libro indispensabile è questo per chi ama il grandissimo Coppola e meno male che è stato tradotto. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona giornata.